Exo Rattics, stai cercando una berlina elegante, perfetta per la città? Ford Fiesta, 1.5 di cilindrata, 86 cavalli, allestimento titanium, scopriamola insieme. Stiamo parlando di un autoveicolo aziendale immatricolato nel 2020 che ha percorso poco meno di 15.000 km e che è certificato e garantito perché come tutte le nostre autovetture deve aver superato il test dei 150 punti di controllo dei nostri automotive expert. Inoltre è stata interamente ricondizionata sia nella meccanica che nella carrozzeria, quindi è assolutamente pari al nuovo. Bellissima ed elegante in questa versione, Moondust Silver, alimentazione diesel per un consumo di 3,5 litri ogni 100 km. I cerchi sono in lega, cromati, multirazza da 16 pollici e il battistrada in condizioni perfette. Il bagagliaio ha uno scalino molto profondo, quindi è super contenitivo, ben sagomato, dotato di ruota di scorta e di luce alogena di cortesia. Sulla destra parte da una capienza di 303 litri e abbattendo entrambe le sedute posteriori frazionabili 60-40 arriviamo a 700 litri di capienza. All'interno dell'abitacolo la parola d'ordine è comodità. Le sedute in tessuto sono curatissime con inserti cromati, la texture è molto carina e sono dotate entrambe le sedute esterne di attacchi Isofix per i seggiolini dei tuoi bambini. Poco più di 15.000 km percorsi e la parte centrale del quadro strumenti è interamente digitale e da qui possiamo accedere a numerosissime funzioni, tra cui ad esempio la radio e i sistemi di assistenza alla guida. La plancia è elegantissima e mi piace moltissimo il display che si erge al centro sopra le bocchette dell'ariazione. Ma partiamo dal volante che ha tre razze dotato di numerosissimi tasti, tra cui il cruise control con limitatore di velocità e non manca il comando vocale e i comandi per la gestione delle telefonate. Vediamo invece insieme a cosa possiamo accedere grazie al display. Allora, partiamo dalla radio che è DAB, possiamo connettere il nostro smartphone attraverso Bluetooth e attraverso Apple CarPlay e Android Auto e abbiamo accesso a numerosissime funzioni, il touch tra l'altro risponde molto bene. Inferiormente troviamo la gestione del clima che è automatico, ingresso da 12V presa USB, il cambio è manuale a 6 rapporti, manuale è anche il freno di stazionamento, doppio portabibite e un ulteriore vano portoggetti sotto il bracciolo centrale con presa USB. Ancora più sagomate, ergonomiche e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale, supporto lombare morbidissime. Corri subito sul nostro sito rattiauto.com, riserva la tua auto con un semplice click per 7 giorni e prenota una video call con uno dei nostri sales. Potrai ricevere la tua auto direttamente a casa tua con il nostro servizio di consegna a domicilio, con igienizzazione e garanzia europea garantito in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto! Grazie! 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 Grazie!